Ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma, 32esima e terz'ultima giornata di Serie D, girone F, si sfidano Trastevere e Vastese. Ostruire completamente la visuale, la battuta di Ficara sul fondo, il pallone Sibila di poco a lato, arriva il Mancino, direttamente in porta di Rienzo. Pallone ancora vivo, Crescenzo si appoggia a Ilari, numero due si guarda intorno, c'è Sannipoli che potrebbe anche calciare, va a Sannipoli col destro, pallone sul fondo e per poco non trova. Rientra anche Allegra che si era portato in avanti, sperando probabilmente in un cross che non è mai arrivato, attenzione a Ficara che fa fuori Sannipoli, poi il pallone in area di rigore verso Alonzi, Alonzi il destro, Semprini a dire no. Pronto Ilari andare con le mani, c'è Corsetti in area di rigore, cercato il numero 10, lo stop con due giocatori addosso, poi mette il cross, deviato, il tocco verso Crescenzo, deviazione, il vantaggio della Trastevere, Daniele Crescenzo fa 1-0 al sesto minuto della ripresa. Numero 10 ha sistemato il pallone, tutti nell'area piccola, arriva il Mancino, colpo di testa, traversa, protestano e la sfera dall'altra parte ancora calcio d'angolo. Per un istante, perché poi riparte il Trastevere, almeno prova a farlo con Giordani che poi finisce anche a terra, attenzione a Lavastese che entra in area di rigore, Semprini in chiusura, ma arriva il fischio del direttore di gara, trattenuta e calcio di rigore per Lavastese, cartellino giallo. Tutto pronto, fischia il direttore di gara, la rincorsa di Ficara, Semprini, pallone che rimane lì alla fine, proprio Ficara a metterlo dentro. Accoglie Sansone che va in profondità, Tarantino col tempo giusto, poi Di Filippo di prima, mette giù Ficara che restituisce al numero 4, la finta di Di Filippo che poi allarga, attenzione al limite dell'area di rigore, Alessandro, Semprini e poi Di Filippo! Raddoppia Lavastese che rovescia il risultato sulla respinta di Emanuele Semprini, è il più lesso di tutti, il capitano ospite nel fare 2-1. Contro noi due, però l'arbitro fa segno di rialzarsi, Sansone ha avuto la meglio, ma il Trastevere strappa ancora il possesso, c'è Crescenzo che allarga sul secondo palo, la penna, mette giù, ma c'è alta la bandierina, chiama lo schema. E va col destro, il pallone passa, attenzione a Di Filippo in area di rigore, il palleggio e il destro sul fondo, pronto proia dalla bandierina, tanti movimenti nell'area di rigore. Sinistro sul secondo palo, c'è Giordani che rimette al centro, libera un difensore, poi ancora un colpo di testa di Chinappi, ben catturato da Marco Di Rienzo. Oppure fischierà la fine, il fischietto in bocca, infatti arriva il triplice fischio, grande esultanza della Vastese che conquista tre punti sul campo del Trastevere, vincendo 2-1 e ribaltando il gol di Crescenzo con le reti di Ficara e di Filippo.